Anaspect d'Italy, l'Italia che non ti aspetti, spot tv, cartelloni negli aeroporti e pubblicazioni nelle riviste specializzate, l'agenzia regionale Puglia Promozione presenta la nuova campagna di comunicazione per il turismo con un occhio particolare al mercato estero. Dopo i primi risultati entusiasmanti raccolti in questa stagione l'obiettivo è quello di migliorare l'offerta per i prossimi anni. Si pensa infatti che nel mese di maggio i flussi stranieri hanno toccato il 60% del totale a fronte di picchi del 50% del 2022. Ecco perché la nuova campagna punterà molto sul consolidamento delle connessioni esistenti verso l'estero come quella degli Stati Uniti ma anche agganciando mercati emergenti come quello medio orientale e orientale per esempio con Cina e Giappone. L'obiettivo però sarà anche quello di qualificare l'offerta attraverso il potenziamento di segmenti specifici, uno su tutti quello dei matrimoni. Per una regione che ormai è diventata destinazione internazionale. Questo media plan, uno dei media plan più importanti in termini di sforzo che la regione Puglia sta mettendo sul campo ci darà ancora di più la possibilità di essere presenti in paesi come gli States, il Canada, il Brasile, l'Australia ma anche un occhio all'Oriente con nuove iniziative che verranno in paesi che per noi possono rappresentare una prospettiva di lavoro, penso per esempio al Giappone o alla Cina. L'occasione è stata utile per fare il punto su uno dei temi che hanno animato il dibattito di quest'estate e l'aumento dei prezzi che qualcuno ha debitato proprio alla crescita del turismo. Il presidente Emiliano ha espresso la sua posizione a riguardo. I numeri devono essere utili dentro un target che è un target di qualità che quindi devono essere turisti in grado anche di scegliere luoghi e strutture di lusso perché chiaramente il turismo di lusso è particolarmente importante senza ovviamente eliminare la possibilità per i pugliesi, per gli italiani o comunque per i soggetti a basso reddito di trovare come hanno sempre trovato le strutture adatte alla loro capacità di spesa.